Buon pomeriggio innanzitutto. C'è un dato incontrovertibile da cui partire, ovvero ci sono delle scelte che sono destinate a cambiare per sempre, volente o non volente, la nostra vita. E tra queste, tra le tappe più importanti, c'è quella della scelta dell'università, che arriva grossomodo in coincidenza con la maggiorità. Quanti di voi, magari col senno di poi, oggi dicono avessi fatto scelte diverse, avessi avuto più coraggio o non avessi intrapreso questa strada? Beh, la storia con i secoli, ma non si può fare. E allora bisogna attrezzarsi per tempo. L'università in Italia sta cambiando, ci sono state delle riforme importanti nel corso di questi ultimi anni, cambia la gestione degli Atenei, cambia anche l'approccio allo studio da parte dello studente, ma anche da parte di chi fa lezione, da parte del corpo docente. E allora sono tantissime le iniziative che vengono messe in campo per aiutare i ragazzi alla vigilia della scelta dell'università a orientarsi meglio tra i diversi corsi di laurea, tra le diverse facoltà, anche con uno sguardo rivolto al futuro. Ovvero, e questo vale soprattutto in tempi di crisi, sì ma dopo aver scelto questo corso di laurea, io che cosa andrò a fare nella mia vita? Come potrò impiegare e spendere soprattutto la laurea che ho tanto voluto e tanto desiderato? Buon pomeriggio alla professoressa Dell'I Fabiano, docente all'università degli studi della Calabria e responsabile di uno dei appuntamenti importanti, come dicevamo prima, all'orientamento dei ragazzi. Facevo la promessa che l'università nel corso di questi ultimi anni è cambiata tantissimo, anche nel nostro paese, è cambiato l'approccio, è cambiata anche l'organizzazione interna degli Atenei. Intanto io rappresento l'orientamento del DIATIC, il DIATIC è il Dipartimento per l'Ingegneria Ambientale e Ingegneria Chimica e parto da questo proprio per affrontare questo discorso di cambiamenti. Abbiamo voluto fare qualcosa di innovativo per i discorsi che ha fatto e che credo sposano appieno quelle che sono le problematiche grosse della società di oggi, questa disoccupazione, questi giovani che non trovano spazio, le emergenze che diventano sempre più evidenti dal punto di vista ambientale e quindi anche dal punto di vista chimico. Allora abbiamo pensato che poteva essere significativo e interessante creare un ambiente di lavoro che riuscisse a coniugare e ad intersecare tutti i saperi necessari a portare avanti i significati e i percorsi indirizzati a rispondere alle problematiche delle ambiente e a tutte quelle che sono le conseguenze che la società sta in qualche modo, diciamo, ignorando. E' evidente che i governi, da qualunque parte parliamo, fino a qualche anno fa hanno sempre risposto ai problemi ambientali in termini assolutamente emergenziali, cioè cercando di affrontare i problemi nella loro immediatezza e quindi non con percorsi o strategie a lungo termine che portassero a dare risposte. Come sempre io credo che, io guardo sempre all'università come alla culla dell'intelletto e penso sempre che è dall'università che possa venire in qualche modo un suggerimento per dare soluzioni o perlomeno sperare di individuare i possibili percorsi per riuscire a trovare risposta. Da qui è nato questo dipartimento e io ho il piacere di rappresentare in questo momento l'orientamento di questo dipartimento intorno ai corsi di laurea che rappresenta, che sono il corso di laurea in Ingegneria Ambientale e il corso di laurea in Ingegneria Chimica. Queste sono, poi le vedremo meglio, le articolazioni dei vari dipartimenti. C'è la necessità soprattutto di offrire un quadro completo e esaustivo a quelle che sono le domande che arrivano dagli studenti, prima ancora che essere matricole all'università. Quanto sanno gli studenti quando vanno a fermare la griglia delle facoltà che vorrebbero intraprendere? Ma questo è un discorso largo, è un discorso diverso ed è un discorso che forse a noi, a me, ai colleghi che fra un po' avrete il piacere di sentire, credo tocchi profondamente perché ci rendiamo conto che nonostante questa nostra voglia di cambiare le cose, questo avviene in un momento in cui la società vive una doppia crisi, una crisi economica profonda, ma anche una crisi tecnologica perché la scienza per la prima volta ha abilicato rispetto a quelle che sono le sue tecnologie e questo di conseguenza ha portato un uso del tecnicismo e della tecnologia molto più forte da parte dei ragazzi che stanno quasi mettendo da parte e accantonando la semantica necessaria per quella cultura che è sempre indispensabile per andare avanti e affrontare i problemi. La conseguenza credo che sia che, adesso parlo un attimo da matematico, mi capita correggendo i compiti degli studenti di trovare degli errori non banali di grammatica e questo addolora perché gli studenti che incontriamo sono studenti dichiarati maturi dalla scuola italiana, sono studenti che spesso vengono dalle migliori scuole della nostra regione, sono studenti quindi che hanno per un momento disatteso quelle che sono le logiche e le competenze che una volta andavano a contraddistinguere i giovani calabresi perché noi sappiamo che in termini proprio di paragone di densità di popolazione i nostri studenti sono il numero maggiore laureati rispetto ad altre regioni e sono bravi. Se parliamo in termini di meritocrazia i voti dei nostri studenti nel confronto nazionale sono vincenti e allora c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che noi dovremmo rivedere nel rapporto con le scuole, nel rapporto anche con l'Europa perché i ragazzi oggi sono cittadini europei e competono quindi anche a livello di concorsi con una realtà europea. Allora c'è bisogno di confrontare i modelli scolastici prima, i modelli universitari poi e di andare incontro a delle risposte per gli studenti e per i giovani che possono offrire loro quel magnifico futuro che noi speriamo di riuscire a dargli. Come si possono aiutare concretamente i ragazzi nella scelta dell'università? Per esempio facendo quello che noi stiamo facendo oggi e noi siamo qui, io sono insieme, fra un po' presenterà il Presidente del Consiglio di Corseilare in Ingegneria Ambientale che è il Professore Mendicino, ci sarà il Professore Migliori Rappresentanza dell'Ingegneria Chimica e siamo qui perché abbiamo pensato che era importante trasmettere ai giovani calabresi questa informazione su quello che facciamo perché l'informazione come sempre è la cosa più significativa per riuscire a studiare, a capire, ad individuare, all'affollarsi e all'elidersi dei percorsi quelli che noi riteniamo più giusti e più consoni al nostro modo di operare. Quindi intanto siamo qui, racconteremo di quello che stiamo facendo e quindi diamo l'informazione sui nostri corsi di laurea altri daranno l'informazione sui loro corsi di laurea Ad oggi quanto sono informati gli studenti? C'è stato all'università un discorso sull'orientamento collettivo che ha visto la presenza delle scuole calabresi è evidente che quando il discorso va a collettivizzare più facoltà contestualmente di natura completamente diverse e tutte le scuole rimane un'informazione puntuale che rimane più nozionistica che specifica e credo che un approccio tipo quello che stiamo facendo oggi possa invece riuscire a dare le risposte a tutti i dubbi che gli studenti hanno riguardo all'ambiente e poi noi li vogliamo incoraggiare rispetto al nostro corso di laurea Io penso che il discorso sull'ambiente sia il futuro Non a caso due leader per la prima volta occidentali da una parte il Papa, il Papa di Maestro, il Papa Benedetto e dall'altra parte Obama decidono per la prima volta parlano del discorso dell'ambiente che equivale al diritto dell'uomo e non a caso Obama utilizza soldi tassati che ha riscosso il governo come adempimento di tasse per utilizzarli per imprese innovative per i giovani sul discorso dell'ambiente e non a caso mette una legge che riduce la consumazione di anidride carbonica Allora c'è un'attenzione sull'ambiente e finalmente il mondo sta cominciando a capire che non è possibile semplicemente rispondere a livello immediato, emergenziale ma dobbiamo costruire questo nostro mondo, dobbiamo difenderlo e costruire il futuro quindi c'è bisogno di ingegneri ambientali e l'ingegnere ambientale va a passeggio con l'ingegnere chimico perché è evidente che là dove si va a parlare di ambiente c'è bisogno di lavorare da un punto di vista chimico quindi i nostri due corsi di laurea credo che dal punto di vista di offerta lavorativa siano quanto di meglio ci sia in questo momento presente in circolazione All'epoca quando venne istituito il corso di laurea all'Università degli Studi della Calabria in ingegneria ambientale lo scopo era proprio quello ovvero formare anche una classe di professionisti che fosse a servizio di una regione l'abbiamo visto, la storia ce l'ha insegnato delle varie emergenze che la Calabria si è trovata ad affrontare nel corso di questi ultimi anni Buon pomeriggio e ve lo presento subito l'altro ospite il professore Giuseppe Mendicino ma com'è cambiato il corso di laurea nel corso di questi anni in ingegneria ambientale? L'indicazione è completa perché nasce nel 92 quindi ha anche 20 anni questo corso di studi e in 20 anni ha avuto diverse dinamiche evolutive nel senso che partiva con una struttura comunque canonica che è dell'ingegneria quindi riguardo agli insegnamenti di base ma anche diciamo quelli più caratterizzanti che riguardano le scienze tecniche e le costruzioni l'idraulica, le costruzioni idrauliche però sempre con un altro rivolto verso quelle che sono le tematiche ambientali che riguardano sia la difesa del territorio e noi in Calabria abbiamo avuto come dire eventi ben noti che impongono diciamo professionisti idonei a valutare, analizzare e risolvere problemi riguardo il distesso idrogeologico riguardo situazioni di emergenze di allagamenti però anche diciamo altre tematiche non ultime per esempio il problema della gestione dei rifiuti o così come quella della depurezione sono tematiche fondamentali che richiedono personale diciamo tecnico qualificato idoneo a poter garantire delle risposte efficaci in questo c'è anche un'ulteriore valenza secondo me che è essenziale in questo c'è anche la dinamica evolutiva del corso di studio cioè quello di interrelarsi anche con un approccio multidisciplinare perché l'ingegnere per l'ambiente e il territorio deve poter interagire anche con biologi, ecologi riguardo altre tematiche, geografi per esempio i cambiamenti climatici che viviamo quotidianamente quindi bisogna anche dare risposte per ciò che riguarda problematiche relativamente alla gestione delle emergenze idriche diciamo delle gestioni sostenibili dell'ambiente ci sono tutta una serie di tematiche che richiedono anche conoscenze come dire di carattere sistemico, informatico, elettronica perché tutto questo per poter conoscere c'è bisogno anche a vasta scala di know-how legato per esempio al telerilevamento a sensoristica complesse quindi c'è tutto un percorso formativo che concorre a formare una figura che deve essere anche compatibile con quelle che sono le esigenze del territorio non ultimo per esempio le problematiche legate anche all'uso di energie alternative quindi dall'idroelettrico all'eolico anche alle, come dire, alle biomasse tutto questo concorre anche a definire il perché poi di questo merge, questo link con competenze di carattere chimico-meccanico e quindi questa figura molto eterogenea che è in grado di risolvere problemi a 360 gradi quindi non in settori ben precisi e che comunque è anche molto appetibile non solo per il nostro territorio ma anche a livello nazionale e devo dire che anche a livello internazionale perché tanti nostri laureati si trovano in realtà molto importanti Professore Medicino, lei mi ha anticipato la domanda che stavo per farle che fine hanno fatto gli studenti che nel corso di questi ultimi 20 anni 21 anni anzi hanno frequentato i corsi di lavoro? Allora, partiamo da un presupposto che non c'è nessun ingegnere per l'ambiente del territorio che è disoccupato e quindi la maggior parte dei nostri laureati trovano collocazione come dire, nelle amministrazioni ma anche in grosse aziende e in imprese che trattano problemi dell'ambiente quindi mi riferisco per esempio a molte imprese di costruzione di impianti idroelettrici o anche in realtà industriali dove era necessario il controllo sulla qualità quindi ci sono una serie di valenze anche molto importanti che rappresentate dai nostri studenti che rappresentano oggi dei punti di riferimento di industria e di aziende molto importanti mi riferisco all'Enel, all'Eni potrei parlare di società e di imprese di costruzione molto consistenti che affidano ai nostri studenti la direzione di grossi cantieri quindi o le odotti o altre strutture di importanza elevata Quanti di questi studenti, è difficile ovviamente dirlo così sono rimasti a servizio del territorio calabrese? Beh, diciamo, ragioniamo in percentuale Allora, partiamo da un presupposto diciamo che noi mediamente tra ingegneria chimica e ingegneria per l'ambiente del territorio riusciamo ogni anno a immatricolare un numero compreso 300 e 150 studenti questo è un buon numero perché il rapporto docenti-studenti è molto alto e consente anche, come dire, di seguire i nostri studenti durante, diciamo, il primo percorso triennale anche nella magistrale ognuno di noi, per esempio, ha una serie di matricole che può orientare quindi a parte l'orientamento più generalizzato ma all'interno dei corsi di studio anche ingegneria per l'ambiente del territorio abbiamo proprio uno sportello dove gli studenti possono in tempo reale manifestare le loro perplessità le loro difficoltà e quindi vengono seguite proprio uno a uno questo ci permette anche di poi instaurare un rapporto che va al di là del rapporto docente-discente ma anche un rapporto di amicizia che concorre poi a indirizzare a guidare queste persone all'esterno allora, ritornando alla domanda diciamo, quante persone, diciamo, escono fuori bene, di questo campione noi riusciamo comunque a portarne alla fine circa l'80% sono poche le persone che decidono di abbandonare gli studi almeno nel nostro ambito nel nostro settore proprio perché c'è questo, come dire interesse da parte nostra a costruire giorno dopo giorno quello che è l'intero o no, l'intero bagaglio culturale di queste figure professionali secondo me altamente richieste dal mercato del lavoro Allora, prima di proseguire oltre c'è però una domanda che si pone l'università e la società italiana in questo momento che è di grande crisi come mai abbiamo questi tempi così lunghi per concludere il ciclo di studi abbiamo provato con la laurea magistrale quindi spezzando il corso di studi al biegno e poi facendo un triennio che sia più specialistico ma non siamo riusciti però a far completare il ciclo di studi entro i 24-25 anni siamo ancora fuori da questi standard può incidere in qualche modo il fatto che i ragazzi non abbiano fatto una scelta consapevole a monte? No secondo me diciamo si tratta anche dei corsi di studi e delle lauree insomma una laurea in ingegneria dove chi porta il gagliardetto con questa E molto grande che richiede grossa responsabilità dignità sul lavoro etica quindi la sommatoria di tante non necessariamente diciamo è scontato il fatto che si debba chiudere necessariamente in 24-25 anni pertanto vogliere io è vero che è un po' come dire ha allungato e dilatato il periodo di studi però secondo me nella media nazionale si riesce benissimo a laureare le persone il rischio qual è? il rischio è che se si va molto diciamo e questo potrebbe essere anche un'interpretazione personale però andando molto dietro a questi tecnicismi cioè in quanti anni si corre il rischio di abbassare poi il livello della qualità anche degli insegnamenti le metodiche con cui si valutano gli studenti per il normale transito quindi dalla triennale alla magistrale cioè ci sono tutta una serie di passaggi che dovrebbero un po' non essere sensibili dei numeri che in qualche modo devono dare delle indicazioni secondo me nel caso della facoltà di ingegneria non necessarie rispondere il problema è non in quanti anni ma come si formano in che modo e quanto sono efficaci nella soluzione dei problemi quindi del territorio quanto sono appetibili per le imprese e per le aziende secondo me questa è la risposta o anzi la domanda da porci e noi dobbiamo rispondere diciamo con i fatti perché nel momento in cui di quel campione noi ne laureiamo 80 e il 75% nel giro di un anno o di 18 mesi trova immediatamente collocazione sul mercato del lavoro secondo me il modo più lei dice il gioco vale la candela secondo me sì secondo me sì quindi questo è il modo di rispondere alla come dire alla sua domanda non tanto se magari qualche mese in più o qualche mese in meno professore Migliori le giro la stessa la stessa domanda per noi è un po' più articolata la risposta perché l'ingegneria chimica ha rispetto all'ingegneria per l'ambiente e il territorio una connotazione più marcatamente industriale per cui è evidente che zone e settori che non hanno tessuto industriale in grado di supportare fino in fondo il ruolo dei laureati possono andare un po' in sofferenza in termini di capacità di accogliere questi laureati però al contrario questo è un vantaggio per quanto riguarda invece la possibilità di rivendersi all'esterno le proprie competenze cioè il fatto di appartenere ad una serie che è geograficamente periferica come l'Università della Calabria dico solo geograficamente perché se uno poi è abituato come noi a confrontarsi con tutte le altre realtà italiane scopre che i nostri laureati hanno punteggi e riconoscimenti da enti terzi che sono assolutamente concorrenziali se non migliori rispetto a sedi molto più prestigiose rispetto alla nostra in ogni caso la domanda si potrebbe in qualche modo girare dicendo quanto ha bisogno la Calabria degli laureati in ingegneria chimica allora se uno rimuove la parola chimica per una questione solo di comodità e chiama l'ingegneria chimica ingegneria di processo cioè capacità di trasformare la materia in qualcosa che abbia un valore aggiunto superiore lo generalizziamo in maniera tale da non perdere troppo tempo in questa fase beh la risposta è moltissimo perché se uno vuole ricostruire un tessuto economico fondato su una economia reale di produzione dove di produzione io intendo non un'economia volta a massacrare l'ambiente ma anzi una produzione che sia compatibile con le esigenze ambientali e sostenibile è evidente che c'è bisogno di conoscenze cioè di processi che siano che siano fondamentalmente guidati dalle conoscenze e in questo ambito chi si laurea in ingegneria chimica ha un grande vantaggio possiede queste conoscenze conoscenze estremamente flessibili perché partono dalla conoscenza dei processi chimici ma arrivano anche a processi biologici alla produzione di farmaceutici processi tipo alimentare processi molto vasti che però hanno la dominatore comune di avere nel loro DNA la possibilità di essere trasportati in diverse realtà produttive per cui se la cabbia non è pronta adesso certamente possiede un bacino che potrà renderla competitiva nel futuro nell'attuale è evidente che se noi parliamo dei laureati in ingegneria chimica di questi ultimi anni il loro destino è più che altro all'inizio quello di confrontarsi con realtà molto dinamiche lo diciamo anche con un pizzico di soddisfazione con qualche riconoscimento che ci viene da chi ci analizza e da chi soprattutto vauta i nostri laureati a proposito di competitività lei diceva i ragazzi che si laureano in ingegneria chimica hanno come punto di riferimento in primis il mondo delle aziende aziende che chiedono però ma faccio un discorso allargato per questione di benefit che sono prettamente economici di avere ragazzi per poter avere tutta una serie di agevolazioni fiscali nelle assunzioni nelle operazioni di apprendistato per tornare al discorso del ci si laurea e ci si impiega un po' di più così chiudiamo la parentesi vale anche per ingegneria chimica oppure no? vale per noi come per i nostri colleghi di ingegneria per l'ambiente e territorio con un risultato incontrovertibile l'età media dei laureati si è abbassata si è abbassata rispetto all'ordinamento che faceva riferimento al vecchio corso di laurea quinquennale c'è stato un passaggio intermedio prima dell'intervento poi della laurea magistrale c'è stato un passaggio intermedio con un primo tentativo poi un po' corretto di laurea in forma di 3 più 2 il secondo tentativo che recupera un po' alcuni dei contenuti della vecchia laurea quinquennale ritengo che possa sposare soprattutto in un'ottica futura gli aspetti positivi della laurea quinquennale ovvero una preparazione di base estremamente solida poco orientata agli orpelli molto alla parte che ci consente di tornare dei professionisti affidabili ma anche un'accelerazione un calibrare meglio i contenuti e la loro distribuzione che consente anche di accelerare un po' il percorso di studio degli studenti è evidente che nessuno di noi si illude che gli studenti si laureino in ritardo per colpa loro c'era anche un vizio di sistema che lentamente concomitantemente con i tempi di una realtà così complessa come l'università ritengo si stia correggendo e mettendo un poco di più in ordine siccome nessuno studente ha voglia di rimanere sui libri oltre il necessario da che cosa dipende io prima mi ponevo come domanda forse anche nella poca consapevolezza quando si inizia un percorso di studio da parte dello stesso studente si forza forza troppo forza troppo la sua natura a 18 anni non capisce bene cosa sta andando a fare o magari non ha la preparazione adeguata nella metodologia di studio a prescindere poi da quanto conosca già prima la materia che va a studiare la risposta è nella domanda nel senso che quello che lei dice è molto vero nei primi anni e nei primi anni quello che accade per l'ingegneria è una scelta che accomuna tutte le ingegnerie cioè non si danno contenuti specifici ma si fornisce un metodo di studio chi con questo metodo di studio ha un buon rapporto un buon feeling dall'inizio prosegue prosegue e si laurea con dei tempi assolutamente in linea con gli standard italiani perché poi noi dobbiamo fare il conto non tanto con l'autoreferenzialità con un conto incentrato o baricentrato sulla Calabria ma vedere qual è il bacino su questo tranquillizziamo tutti quanti sono tranquillamente i nostri laureati nelle medie italiane la realtà è che l'abbandono è molto più elevato per le percentuali di cui parlava prima correttamente il professore Mendicino all'inizio non perché ci siano ripensamenti sostanziali ma perché uno capisce immediatamente appelle se quel modo di ragionare quel modo di quelle metodologie di analizzare i problemi molto diversi fra di loro ma da un punto di vista sistematico molto uguali fa per lo studente o no e da questa risposta scatolisce immediatamente anche la velocità con la quale gli studenti possono portare a termine nel loro percorso di studi fatte ovviamente salvere piccole differenze che sono un po' fisiologiche professoressa Fabiano diceva il professore Migliori quando abbiamo capito quando lo studente ha capito se il metodo è suo oppure no poi prosegue come un treno e allora qui gioca un ruolo fondamentale anche l'orientamento che si dà ai ragazzi sicuramente l'orientamento ma gioca anche un ruolo fondamentale la nostra capacità di trasmettere la formazione voglio dire io credo che provo a farlo con un esempio questa è una cosa a cui ho sempre abbastanza riflettuto se noi uno studente insegniamo a risolvere un esercizio o qualcosa non abbiamo trasmesso niente perché cambiando i parametri del problema lo studente avrà ancora bisogno di noi ma ci sono anche quello che diceva Migliori in termini differenti noi abbiamo bisogno di trasmettere agli studenti la capacità di affrontare un problema scientifico riuscendo a individuarne i parametri essenziali e eliminando i parametri secondari se diamo questa capacità formativa di andare avanti non è tanto importante quanto e cosa diciamo quando l'avere trasmesso la possibilità allo studente di fare scienza allora se lo studente recepisce questo a mio parere indipendentemente dalla scelta che lo vedrà più appassionato rispetto alle problematiche gestionali o alle problematiche ambientali o ad altre problematiche lo studente avrà già vinto la sua battaglia sarà solo poi un discorso di scelta di passione di vita di quello che uno Confucio diceva fai un lavoro che ti piace e non lavorerai manco un giorno in vita tua quindi ma questo si riesce a vedere purtroppo semplicemente tardi spesso le circostanze di vita l'essere cresciuto in famiglie che ci condizionano su alcune cose e anche adesso faccio un discorso di parte vediamo le materie scientifiche per esempio la matematica io credo che se nella scuola elementare trovi un insegnante che ama la matematica la amerai per tutta la tua vita se nella scuola elementare trovi un insegnante che subisce la matematica la subirai per tutta la vita è una cosa abbastanza ormai conclamata accettata da tutti questa realtà perché funziona così ed allora riuscire poi a livello universitario a intercettare quelli che sono le possibilità reali di uno studente di recuperare quando non è già in suo possesso dal punto di vista di capacità culturale e la capacità dello studente quindi di uniformarsi a un processo a una strategia che lo porta poi avanti negli studi è certamente legato a noi docenti è legato all'ambiente è legato alle circostanze ma è anche legato alla voglia che ha lo studente di partecipare a questo processo perché come dicevo spesso noi subiamo le scelte e ci rendiamo conto di quello che vogliamo fare solo quando è tardi a volte o non si ha il coraggio di indirizzarsi diversamente oppure ci rendiamo conto che la scelta che abbiamo fatto è completamente sbagliata beh può succedere io penso che una persona intelligente i nostri studenti i calabresi sono magnifici giovani e sono intelligenti in qualunque ambito li metti probabilmente lo faranno e lo faranno bene il problema è che se hanno scelto in questo loro fare qualcosa che li appassiona saranno vincenti in questo qualcosa che vanno a fare se hanno scelto qualcosa che fa parte delle scelte della vita così perché gli indirizzi le circostanze la personalità il carattere quello che ti capita intorno ti porta a fare questa scelta probabilmente andrai bene lo stesso ma non sarai un leader non sarai un appassionato non sarà qualcosa che senti tua e che quindi come tale ti permette di esercitarla con grandi significati e con grande rilevanza e con grandi risultati c'è un approccio forse che va cambiato nel nostro paese nello studio delle materie scientifiche mi risponde subito dopo la pubblicità a te 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 non so quanti magari a casa hanno annotato la frase che prima diceva la professoressa Fabiano c'è una grande differenza tra fare matematica e subire la matematica credo che sarà una frase che si ripeteranno spesso in testa per tornare a bomba c'è un approccio che forse va cambiato nel nostro paese riguardo lo studio delle materie scientifiche ma è una domanda molto difficile che meriterebbe approfondimenti diversi provo a sintetizzare quanto più possibile un'idea di massima che ognuno di noi può per quel minimo di esperienza che ci portiamo dietro nel nostro lavoro io credo che noi dovremmo spostare molto di più la nostra informazione verso gli studenti sulla semantica piuttosto che sulla sintassi cioè dovremmo stare attenti nel momento in cui trasferiamo le informazioni scientifiche nel momento in cui parliamo di scienza a dire e a far notare allo studente la grande differenza che c'è la dualità seria fra quello che sono i contenuti e gli strumenti che man mano noi introduciamo per affrontare per superare e dare risposte alle nostre problematiche che prima nelle scuole elementari è la somma poi diventa la moltiplicazione la divisione allarghiamo i monti perché lì non ci troviamo risposta perché in matematica c'è un problema serio lo sintetizzo in un attimo il problema è di tornare indietro i matematici quando fanno una cosa hanno sempre bisogno di conservarsi l'informazione per ritornare indietro e ci sono ancora studi molto significativi che dimostrano la difficoltà che c'è da questo punto di vista allora io credo che se noi riusciamo a dare tutta l'informazione scientifica che non riguarda solo la matematica ma riguarda tutto quello che è scienza stando attenti a distinguere sempre lo strumento dalla risposta a quello che vogliamo ottenere a quello che è il problema che dobbiamo risolvere forse riusciamo a fare male quello che facciamo io credo che niente va fatto con dogmatismo credo che anche un teorema la gente debba sapere perché lo si fa e perché c'è quell'ipotesi e quando lo sfrutti se lo studente non riesce a ragionare in questi termini con difficoltà riuscirà a progredire perché subirà quello che gli stiamo dicendo e comunque spostando un attimo solo l'attenzione dalla matematica io penso che io la studentessa ci riflettevo ingegneria è una parola bellissima è l'ingegno di quello che fa che poi può essere informatica può essere gestionale ambientale ma l'idea di mettere insieme in maniera ingegnosa quello che studi le problematiche che vuoi affrontare per dare risposta a quelle che sono le esigenze che possono venire da un territorio dalla scienza o anche a volte astratte i matematici si innamorano delle loro teorie pure io credo che sia una cosa bellissima quindi la facoltà di ingegneria sicuramente è una delle facoltà che si viste dal punto di vista giusto e più affascinante proprio per uno studente più affascinante perché c'è una creatività che io credo che ai giovani piaccia allora le rispondo come penso le risponderebbero i ragazzi e non solo che sono a casa si vabbè in teoria è tutto giusto detto poi dal vostro punto di vista ma io alla vigilia della scelta dell'università non sceglierò mai il corso di laurea in ingegneria per un semplice motivo ovvero c'è troppa matematica quante volte onestamente se l'hai sentito dire? tante volte ed ogni volta le dirò anche che spesso quando in una conversazione se non conosci le persone che hai di fronte e dici che sei un matematico la gente comincia a guardarsi con sospetti io non so bene perché quello che so e di cui sono sicuramente certa è che la matematica è una cosa bellissima la matematica io numeri ne vedo pochissimi veramente molto pochi la matematica studia modelli studia tante cose la matematica è al centro di qualunque disciplina si vuole fare non a caso ho aderito a questo discorso del diatic di intersecare altri saperi per poter utilizzare la matematica e finalizzarla cioè applicare la matematica pura che è una cosa completamente differente dalla matematica applicata ma applicare la matematica pura a cercare soluzioni ai problemi che man mano vengono posti quindi io dico agli studenti veramente se è la matematica che fa paura vi prego venite a fare matematica vi faremo rendere conto che non è così e che la matematica è una bella cosa e e che quando si capisce non si fa in maniera dogmatica io sono sicura passione nei corsi di orientamento spiegate anche questo io non faccio corsi di orientamento so che ci sono dei corsi di azzeramento non ci sono corsi di orientamento l'orientamento è stato organizzato nell'incontro con gli studenti per dare informazione su come è organizzata l'università mi riferivo a questi incontri ecco sull'azzeramento qua tocchiamo un tasto si va più sul tecnico su cui la discussione si va molto sul tecnico e spesso questo allontana a mio parere invece di avvicinare però c'è da dire una cosa l'azzeramento lo fa chi l'ha già scelta nel senso che io ho già entrato all'università e no io credo che invece la matematica vada vista matematica e filosofia andavano insieme e anticamente i matematici erano filosofi io invito gli studenti a ragionare in questi termini e giuro la matematica è io credo che sia passione cioè è una cosa che appassiona e se viene fatta dal punto di vista giusto va bene e voglio anche dire un'altra cosa me la consenta per tranquillizzare chi si iscrive ad ingegneria e spesso mi dicono non posso fare ingegneria perché ho fatto il liceo classico e non il liceo scientifico falso e io ho notato che gli studenti che escono dal classico sono più bravi ma non perché sono più bravi a caso perché lo studente che esce dal liceo classico proprio per questa sua consapevolezza di non aver affrontato certi tecnicismi ti ascolta studia poi ha una capacità di formazione acquisita dal greco dal latino molto significativa per cui l'esame viene superato veramente con grandi risultati lo studente del liceo scientifico è spesso convinto invece di sapere completamente tutto bene io ho guardato i libri del liceo scientifico nella parte tecnica di eserciti sono sfogliatissimi e consumati nella parte di teoria in cui chiedi e ti domandi il perché delle cose sono assolutamente vergini mai aperti allora lo studente del liceo scientifico continua a tecnicizzare la risposta invece di chiedersi il perché di cambiare la mentalità di approccio alla matematica quindi spesso fa più fatica lo studente del liceo scientifico che lo studente del liceo classico io credo che così come abbiamo organizzato i corsi qualunque studente da qualunque tipo di scuola può venire in maniera tranquilla lo dico seriamente in maniera tranquilla perché avrà tutta la possibilità di recuperare un background che non c'è ed avrà la possibilità di superare gli esami di matematica se riesce ad entrare nell'ottica giusta e noi ce la metteremo tutta perché ciò accada l'approccio professore Mendicino all'estero è diverso nei confronti della metodologia di studio delle materie scientifiche perché dobbiamo anche porci la domanda come mai nel nostro paese c'è stata una fuga da certi tipi di corsi di lauree diciamo questo si va in un altro ambito che è quello dei finanziamenti governativi diciamo alle università e quindi alla ricerca già qualcosa che riguarda più coloro i quali si laureano e vogliono avere per esempio delle possibilità di fare ricerca all'interno degli atenei di provenienza tutto questo ha serie difficoltà perché i fondi sono sempre più modesti e segui e quindi lì dove c'è il sacro fuoco della come dire di voler fare e di saper far bene perché ribadisco i nostri laureati sono anche degli ottimi ricercatori e non è un problema di auto valutazione o di autocertificazione oggi ognuno di noi pesa a livello di ricerca ci sono indici bibliometrici ci sono indici che definiscono esattamente qual è la valenza e la come dire la consistenza della ricerca sviluppata e quindi i nostri ragazzi sono molto bravi trovano porte aperte trovano finanziamenti per poter come dire portare avanti i propri sogni perché quando uno fa ricerca la fa compassione è un sogno di conseguire degli obiettivi quindi questo è anche diciamo un motivo per cui tante persone lasciano l'ala alle nostre università per andare diciamo all'estero non penso che sia legato a approcci diversi a modalità di erogazione della didattica della formazione in questo voglio dire nel passato eravamo leader cioè la scuola universitaria nazionale italiana era leader nel mondo a livello di formazione i nostri laureati venivano contesi e richiesti in tutte le parti del globo ed erano iperpagati per avere diciamo questa conoscenza a 360 gradi riguardo le problematiche tecniche oggi in qualche modo ci siamo appiattiti nel senso che abbiamo in qualche modo tenuto conto degli standard internazionali e europei e quindi in qualche modo anche il modo con cui noi eroghiamo la didattica sia un po' uniformata a quelle che sono diciamo le normali tendenze europee e internazionali questo non vuol dire che diciamo siamo in una posizione minoritana nel senso che noi comunque siamo competitivi e riusciamo a formare persone di grossa valenza e di grossa qualità è ovvio che poi bisogna fare i conti con una serie ribadisco di problematiche che sono più legate come dire all'interrelazione o ai finanziamenti che ci sono tra lo Stato e gli Atenei ma questa è un'altra storia voglio dire non è tanto un problema della formazione perché anche con grosse ristrettezze economiche il modello formativo che noi riusciamo a derogare è senza dubbio di alta valenza e di ottima qualità qual è il risconto i nostri studenti che una volta laureati trovano immediatamente occupazione questo è il modo più oggettivo di verificare indipendentemente da tecnicismi o da indici di valutazione il modo concreto è capire quali sono le esigenze del mercato tenerne conto nella formazione diciamo avere questi requirament una volta che sono usciti capire che trovano subito sbocchi e impieghi consoni al loro livello di preparazione ritengo che sia la risposta più idonea da poter formulare quella che è un'accusa che fanno tanti studenti al sistema in realtà universitario italiano è che spesso sia pieno di teoria e che dia pochissimo spazio alla pratica e allora penso ad esempio ad uno studente che sta concludendo il ciclo alla facoltà di ingegneria ambientale rimane poi sul posto va a vedere sul posto senza ombra di dubbio non è casuale il fatto che ci sia questa riorganizzazione in un primo periodo triennale in cui si fanno appunto le materie di base quindi non è solo matematica la matematica è il sale di questo minestrone che si va a strutturare ci sono altri contenuti molto importanti conviene con me che però si parte sempre dalla matematica tra favorevoli e contrari comunque da lì bisogna partire ci sono tre componenti importanti la chimica la fisica e tutto il resto che concorre a formare questa fondazione su cui si va a strutturare tutto l'impalcato della figura dell'ingegnere ma poi nell'ambito della magistrale si va in un settore dove non è così come dire reale il fatto che si faccia solo teoria perché anzi voglio dire si hanno rapporti con le aziende con imprese con altre realtà c'è tutto un percorso di tirocini di formazione attività seminariali e quindi anche la possibilità peraltro di andare a visitare altri atenei o altre realtà che in qualche modo sono molto aperte a situazioni lavorative e fatti applicativi quindi voglio dire ci sono due livelli c'è il livello quello del corso in cui ovviamente ci sono componenti di carattere teorico ma poi i fatti applicativi nell'ambito dell'ingegneria si va nella progettazione si va in situazioni molto specifiche dove lo studente viene portato a analizzare un problema a risolvere e attuare diciamo delle soluzioni ma in termini in termini progettuali ma questo non basta perché poi c'è anche come dire la tutela e il fatto di instradare questi studenti rispetto a delle realtà costruttive ben strutturate dico per dire diciamo nel caso di ingegneria per l'ambiente del territorio ci sono momenti dove si portano a vedere diciamo degli impianti di depurazione oppure delle opere idrauliche o altre situazioni concrete dove si fa vedere esattamente come si può passare dall'approccio teorico alla pratica non solo a livello di progettazione ma anche di gestione proprio più quindi ci sono diverse fasi diverse situazioni che diciamo non riguardano solo l'aspetto prettamente teorico ma c'è un percorso formativo che va al di là di quello che è la normale come dire concezione didattica o chiusa sì infatti esce fuori ed esce fuori con tutta una serie di iniziative ribadisco che non sono solo finalizzate al singolo approccio ma ci sono periodi proprio di formazione ad hoc presso in termini di stage tirocini e anche diciamo utilizzando quelle che sono le esperienze dall'esterno con attività seminariali dove lo studente può interfacciarsi con professionisti del settore di alta valenza e di alta qualità torneremo tra un attimo sul capitolo della formazione del rapporto con le aziende perché prima il professore Migliori diceva i nostri ingegneri sono fiore all'occhiello fuori regione perché ovviamente qui in Calabria abbiamo il problema di aziende che sono pochissime figuriamoci nel settore specifico e allora come si fa come si avvia questo tipo di rapporto durante la formazione dello studente il rapporto non è difficile da avviare perché ripeto quello che dicevo prima al di là del nome ingegneria chimica che forse per certi versi non è scelto benissimo ricorda molto le origini della nostra formazione ovvero la petrolchimica la trasformazione classica negli ultimi 15 anni è chiaro che abbiamo registrato come tutti i cambiamenti del tessuto economico e anche i processi produttivi si sono notevolmente adattati a questo tipo di situazioni ovviamente l'ingegneria di processo si è adattata a sua volta quindi se uno esce dallo specifico delle trasformazioni petrolchimiche e interpreta un ingegnere chimico come un ingegnere di processo egli non fa altro che prendere delle materie prime trasformarle in maniera chimica con delle reazioni chimiche delle separazioni tutta una serie di aspetti tecnici che forse poco interessano in questa sede in prodotti che sono a più alto valore aggiunto rispetto alle materie prime sfido chiunque a dire che questo tipo di meccanismo non è l'imparcatura di qualsiasi realtà produttiva indipendentemente dalle latitudini alle quali essa si è impiantata e soprattutto indipendentemente dalle dimensioni delle realtà produttive stesse perché c'è un problema fortissimo legato alle dimensioni delle realtà produttive che in genere va un po' al contrario rispetto al senso comune ovvero le grandi produzioni sono quelle da un punto di vista tecnologico meno innovative per un problema di estensione delle produzioni per un problema storico la realtà è che la grande sfida è avere produzioni piccole che sono certamente compatibili con tessuti economici come quelli calabresi estremamente diversificati con una parcializzazione territoriale notevole ma dicevo proprio perché piccoli anche ad altissimo contenuto tecnologico in questo senso avere delle persone che sanno esattamente mettere le mani all'interno dei processi cioè sanno aprire queste scatole apparentemente misteriose e all'interno di queste capire come intervenire per avere dei sistemi che siano innanzitutto sostenibili perché la sostenibilità ambientale da qui la presenza dell'ingegneria chimica insieme all'ingegneria per l'ambito e territorio sembrano da una lettura superficiale il diavolo acqua santa cioè noi facciamo il vapore e il fumo e qualcun altro pulisce non è esattamente così l'ingegneria di processo ha cambiato il suo paradigma parte come diceva il professore Mendicino con la parola chiave che è progettare cioè usare l'ingegno per creare prima da un punto di vista astratto e poi in concreto delle strutture dei processi produttivi nel nostro caso specifico i quali abbiano connaturato in se stesso le caratteristiche di sostenibilità le caratteristiche di ecocompatibilità e le caratteristiche di sicurezza dove intendiamo per sicurezza un vastissimo diciamo così ambito di di condizioni sia di sicurezza rispetto al territorio ma anche rispetto agli operatori che vi operano bene in questo senso io credo che padroneggiare conoscenze di questo genere è un'opportunità che dalla grande scala alla piccola scala è evidente che non ha grande differenza quello che fa differenza ma questo penso che sia una coppa scrivibile all'università è la situazione di partenza il tessuto produttivo va a rilento ma sono convinto che se dovesse ripartire mi auguro che lo farà non può non ripartire da questo tipo di padrone e tra le priorità che sono state discusse nel corso di questi ultimi cinque anni su quello che è il futuro dell'università in Italia ce n'è uno che è balzo sia per i governi di destra che di sinistra ovvero quello di creare rete con il mondo delle aziende ad oggi parto dal professore Migliori poi volevo chiederlo anche al professore Mendicino le aziende calabresi quanto chiedono il vostro supporto? lo chiedono lo chiedono all'inizio timidamente forse un po' poco convinti poi si rendono conto che la lingua che parliamo è assolutamente accessibile c'è una recauta immediata in termini di miglioramento dei processi produttivi c'è un miglioramento immediato in termini di aumento dei margini c'è un miglioramento immediato in termini di miglioramento della formazione dei propri addetti perché questo è anche un aspetto importante il tasso di scolarità il tasso di conoscenze degli addetti per cui sono moltissimi gli esempi di aziende che entrate in punta di piedi nei nostri laboratori di fatto non ne sono più usciti anzi in alcuni casi hanno anche portato quando sono usciti appresso a loro alcuni dei ragazzi che avevano avuto occasione di formare perché se è vero che esiste come diceva giustamente il professore Mendicino prima un livello di o una tipologia di contatto con l'azienda che sono gli stagi che sono le attività seminariali esiste un'altra assolutamente più attiva che è quella che i nostri studenti possono incontrare ogni volta che mettono a piedi nei nostri laboratori in cui la maggior parte del lavoro che viene svolto a fianco ad un lavoro di base fa riferimento alle caratteristiche dell'ingegneria che sono caratteristiche estremamente applicative per cui il nostro lavoro scaturisce molto spesso dalle esigenze aziendali esigenze aziendali che ti portano a gioco forza a doverti misurare con le esigenze di un committente lo si fa da studenti quindi con una serie di ammortizzatori in termini di esperienza però si comincia già a percepire negli ultimi anni della propria carriera universitaria più specificatamente nell'alore magistrale questo accade solo per un problema di competenza delle conoscenze di base degli studenti che fa sì che tu che arrivato alla fine del tuo percorso di laurea hai già un ottimo bagaglio di esperienze in termini di rapporto attivo con le aziende con le quali mediamente hai sempre avuto occasione di misurarti nel corso della parte finale del tuo corso di studio le aziende quindi vengono nel campus in dipartimento dicendo ho questo problema ora trovate voi la soluzione si è capitato capita molto spesso e capita sempre di più quando si capisce che i nostri oggetti di studio e mi riferisco in maniera più dettagliata ai sistemi biocompatibili ai biocarburanti allo studio di biomasse allo studio di energie alternative innovative e sostenibili sono tematiche che in questo momento sono assolutamente vicine alle realtà aziendali questo è solo una parte esiste un'altra parte che ha invece problemi di tipo diverso ovvero dice questo è il mio processo questo è il mio il mio core business lo possiamo migliorare possiamo migliorare le condizioni che portano me ad adottare un prodotto migliore e in questo in questo senso la presenza di aziende è assolutamente la norma per noi allora tra un attimo vedremo il capitolo di ingegneria ambientale per ora ci fermiamo c'è la pubblicità rapporto e legame che si crea tra mondo dell'università e le aziende abbiamo visto per ingegneria chimica ingegneria ambientale durante la pubblicità il professore Mendicino ha detto una frase che mi è piaciuta molto in Calabria abbiamo un laboratorio che è naturale abbiamo il più grosso e il più grande laboratorio naturale dove i nostri studenti diciamo se non quotidianamente ma diciamo ogni due giorni hanno la possibilità di confrontarsi perché è la successione di dinamiche più o meno articolate però era un modo come dire simpatico per dire che noi siamo come dire assoggettati a delle richieste e quindi ecco perché il laboratorio da parte di aziende che sono anche private mi riferivo per esempio ai consorsi dove hanno esigenze quotidiane e ci richiedono già ancora prima di conseguire la laurea studenti che siano in grado in qualche modo di analizzare delle tematiche ad hoc porre delle soluzioni in termini di progettazione di realizzazione di opere ma anche di gestione e quindi questo poi consente in seconda battuta perché ci sono delle convenzioni in atto di poter come dire gli stessi studenti rimanere poi in queste aziende e quindi come fatti diciamo di sbocco lavorativo non è solo facevo l'esempio del consorzio ma ci sono anche altre realtà dove in effetti diciamo si cambia la direzione quindi in relazione a quelle che sono come dire le forzanti esterne noi siamo in grado di mutuare diciamo delle conoscenze mirate per la soluzione poi pratica concreta di quelle che sono le esigenze del nostro territorio e quindi il livello di formazione è molto orientato rispetto a delle tematiche ben precise che interessano da vicino l'ambiente e quindi il territorio calabrese arriva al punto cioè si verifica quotidianamente le interrelazioni con strutture pubbliche e private con problematiche specifiche e con questa richiesta enorme prima si citava diciamo l'aspetto dei tirocini ma non solo perché poi ci sono anche ulteriori accordi che vengono fatti per esempio dal nostro corso di studi anche subito dopo la laurea cioè dopo la laurea c'è un periodo di 12 mesi che un neolaureato può come dire avere direttamente con un'azienda e in questo frangente diciamo l'azienda può prendere visione del prodotto umano tecnico che viene comunque erogato dal nostro corso di studi e quindi alla fine dei 12 mesi scegliere se è il caso di mantenere diciamo questa valenza tecnica oppure seguire altre strade quindi ci sono degli accordi molto precisi in settori che riguardano come dire la tutela dell'ambiente prima si parlava di altre dinamiche che è la gestione delle risorse cioè noi abbiamo esattamente tutte le problematiche che all'inizio del programma lei faceva riferimento anche al settore della depurazione come no non è perché siamo in prossimità dell'estate e quindi sorge questo problema ma ci sono come dire problematiche che durante tutto l'arco dell'anno interessano il nostro territorio e quindi la corretta gestione dei depuratori le modalità con cui si va a collettare diciamo tutti i reflui verso queste queste strutture problemi legati a una gestione integrata anche perché per esempio e in questo bisogna dire che il nostro corso di studi forse è l'unico che tenta in qualche modo di valutare oltre alle problematiche prettamente tecniche anche un problema di management da un punto di vista economico perché perché devono intervenire strutture private per una gestione poi più allargata di queste strutture che purtroppo diciamo non possono essere mantenute soltanto alla scala comunale quindi è un quadro più generale parlavamo della depurazione ma potremmo parlare anche di altre di tante altre tematiche per esempio le risorse idriche è palese il fatto che scarseggiano sempre più e quindi è necessario avere come dire una cura e una dinamica di gestione e di controllo che non è quella alla scala annuale ma pluriannuale e in questo senso come dire i nostri studenti sono all'avanguardia anche perché dietro poi come dire la normale formazione quella standard bisogna dire che è il corpo docente che afferisce allora io mi escludiamo sponsorizzo i colleghi che sono delle valenze delle eccellenze a livello nazionale e internazionale quindi molte volte anche come dire tutta la parte di ricerca viene trasferita ai ragazzi e danno un know-how certamente di altissima qualità che porta ad avere come dire una figura tecnica compatibile non tanto con quelle che sono le normali problematiche ma poter andare anche al di là e in questo c'è anche un passaggio importante cioè anche delle interazioni continue con gli ordini professionali che poi controllano e verificano qual è il livello diciamo di formazione dei nostri dei nostri laureati quindi è un sistema molto allargato molto dinamico dove tanti tasselli devono essere messi a sistema devono fare un continuum e questo finalizzato a una formazione sempre più efficace Formazione professoressa Fabiano che è continua perché l'azienda in un momento di criticità chiede all'università che fa ricerca di suo una soluzione l'università che porta avanti dei progetti anche per confrontarsi con gli Atenei non soltanto italiani ma stranieri si cerca di fare rete che è poi il principio importantissimo per garantire il successo dell'università Certo e soprattutto nel senso giusto nel verso giusto perché sia ingegneria ambientale il discorso che ha fatto Mendicino sia il discorso che ha fatto Migliori rendono evidente la risposta da parte dell'università e quindi l'utilizzo di una ricerca finalizzata alla risoluzione dei problemi del territorio questa è una cosa molto significativa perché spesso come sappiamo la ricerca nasce dall'università e il senso di freccia è invertito cioè l'università la scienza va avanti e progredisce autonomamente e poi cerca di confrontare di applicare sul territorio quello che ha trovato qui mi pare che è molto significativo ai fini poi delle possibilità occupazionali per i giovani perché l'approccio e la freccia di percorrenza è completamente opposto cioè il territorio chiede diceva prima sentivo la Calabria è un laboratorio sto pensando al distesso ideologico sto pensando a tutto quello che succede in Calabria e a quanta possibile richiesta possa venire in termini di risposta dal punto di vista scientifico e quindi dal punto di vista di ingegneria ambientale e di ingegneria chimica questo mi fa pensare che la preparazione e tutto quanto ho sentito conforta nel senso che fa ritenere e crea quella speranza significativa e giusta a mio parere che i giovani così formati possano poi trovare da soli le strade e il cammino per rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio e chissà che finalmente mi consenta questa battuta in Calabria non si vedano finalmente finanziamenti e meccanismi progettuali finalizzate a questo senso di percorrenza perché secondo me è il modo serio per dare poi possibilità di lavoro ai nostri giovani e io sono convinta che in termini costruttivi e seri ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica sono fra le più significative per dare risposta dal punto di vista incisivo e percentuale al problema lavorativo e in Calabria noi sappiamo che la disoccupazione dei giovani ha toccato punte veramente impressionanti e c'è un'attenzione particolare dall'Unione Europea nei confronti dei Paesi membri ovvero quella di utilizzare bene i soldi che ci sono in tempi di magra e tra le strigliate che sono state date al nostro Paese c'è quella relativa al fatto che i fondi che pur sono arrivati non sono stati utilizzati al meglio ma perché abbiamo questo grande limite cioè uno dei grandi limiti che vede l'Italia protagonista purtroppo è questa incapacità di trasformare la ricerca scientifica in prodotto industriale o in risposta al problema che viene posto man mano ecco per questo dicevo che la freccia nel senso in cui ho sentito prima inverte questo stato di cose e dà speranza di poter utilizzare la nostra ricerca perché finalizzata all'esigenza che è venuta fuori dal territorio è come se il laboratorio territoriale il laboratorio calabrese che poi come sentivo prima questi modelli poi di soluzione ai problemi possono avere una valenza nazionale mi pare di capire anche internazionale possono essere presi così ma la cosa importante e significativa è che il problema viene affrontato e viene ricercata la soluzione quindi è una ricerca ad hoc su problemi significativi e questa è una cosa a mio parere importante in un momento in cui la scienza tutta sta cercando di fronteggiare quelli che sono i problemi biologici che sta affrontando il mondo intero mi pare anche perché i fondi che sono a disposizione spesso sono vincolati e tra le parole che sentiamo ripeterci spesso c'è innovazione sì però tra le parole c'è anche diciamo climate change c'è environmental analysis ci sono tematiche sviluppo sostenibile c'è tutto il pacchetto Horizon 2020 dove l'ambiente è prioritario quindi su questo bisogna anche un po' tranquillizzarci riguardo anche la possibilità di poter accedere ovviamente essendo dei progetti europei è necessario avere anche una compagine molto più ampia che non è solo a livello nazionale ma diciamo deve abbracciare per esempio il bacione del Mediterraneo o altre realtà in ogni modo anche in questo caso diciamo i nostri dipartimenti trovano ampia come dire attinenza a quelle che sono le indicazioni da parte della comunità europea riguardo diciamo quelle che sono le linee guida da poter seguire per poter accedere a dei finanziamenti ovviamente dei finanziamenti che la difficoltà poi non è solo legata ai contenuti ma anche alle modalità agli sportelli per poter accedere in questo diciamo la professoressa Fabiano è abbastanza aggiornata e conosce nel dettaglio che ci sono una serie di difficoltà più legate alle modalità con cui si preparano i progetti su cui si riesce ad accedere esattamente a alcune indicazioni che la comunità europea impone però da un punto di vista dei contenuti tecnici e scientifici sia esattamente in linea su quelle che sono diciamo le indicazioni quali sono i temi da investigare da parte della comunità europea perché in questo dà delle indicazioni ben precise e degli orientamenti quindi ribadisco diciamo delle keywords che trattano l'ambiente che trattano le dinamiche del territorio che trattano il risanamento che trattano la gestione energetica e quindi il problema delle fonti alternative che trattano diciamo le problematiche secondo approcci sostenibili allora tutto questo è esattamente in linea con quelli che sono i contenuti e le tematiche che vengono in qualche modo analizzate nell'ambito del nostro dipartimento e quindi nei corsi di studio di ingegneria per l'ambiente del territorio e ingegneria chimica questo è il discorso più largo la risposta che avevo dato era il riferimento alla domanda che guardava ai fonti strutturali quindi è un discorso solo calabrese e quindi nel discorso calabrese credo che il nostro dipartimento e i nostri corsi di laurea abbiano la capacità di dare una risposta operativa con la freccia dal punto di vista giusto perché guardiamo i problemi e cerchiamo e questa è una cosa che mi piaceva mettere in evidenza perché noi questa calabresità diciamo ce la tutta l'abbiamo in tasca ce la portiamo dappertutto e ci teniamo a difenderla a proposito di calabresità che si porta in tasca professore Migliori il rapporto invece tra il dipartimento e gli altri atenei italiani e stranieri dunque il rapporto perché la rete va bene ottima con le aziende ma c'è anche l'altra faccia della medaglia ovvero la rete e il sistema con gli altri atenei che è quello che consente alla ricerca di circolare esattamente cerchiamo di ricontestualizzare il problema perché siamo scivolati dalla didattica alla ricerca che nell'università è un evento abbastanza frequente quello di mettere insieme le due cose chi se lo può permettere noi credo ciò possiamo permettere come dipartimento viste tutte le implicazioni di cui abbiamo parlato fino ad adesso e necessariamente nel rapporto fra gli atenei e fra atenei da un punto di vista di ricerca gli strumenti che sono posti in essere dal governo in particolare prevedono necessariamente la collaborazione cioè noi siamo in questo momento lo dicevo all'inizio assolutamente periferici da un punto di vista geografico ma affatto periferici da un punto di vista culturale perché i nostri docenti guidano progetti di ricerca di interesse nazionale guidano reti di ricercatori che hanno ripercussioni e sedi molto lontane e anche molto prestigiosi i politecnici delle grandi città del nord i quali hanno con noi un rapporto assolutamente paritario perché a quel punto non è più una questione di tessuto prodotti romani ma una questione di intelligenza che sinceramente ai calabresi non è mai mancata né quando purtroppo forse non è mancata più quando siamo andati fuori nel caso specifico noi ce la teniamo ben stretta e siamo in assoluta connessione con tutti gli Atene italiani non è una caratteristica che rivendichiamo come solo nostra l'università se vuole sopravvivere deve sopravvivere come corpo d'insieme far sopravvivere una serie di no-umen ognuno ancorato alle proprie specificità è un processo che ha traiettorie molto brevi quello che resta è che colpisce che per quanto riguarda l'ingegneria chimica questa è l'unica sede sotto Salerno fino a Palermo per cui qualsiasi tipo di struttura che voglia fare riferimento a problemi di tipo produttivo altro non ha che forse farsi una camminata dalle nostre parti allora siamo addirittura ad arrivo professoressa Fabiano abbiamo iniziato parlando di orientamento degli studenti per chi volesse saperne di più diamo qualche informazione per quanto riguarda ingegneria corso di laurea per l'ambiente territorio ingegneria chimica può venire al nostro dipartimento il diatic e rivolgersi al personale che trova in dipartimento o anche a noi docenti e sono convinta che chiunque di noi sarà disponibile a dare tutte le informazioni necessarie io sono a loro disposizione io sono al cubo 31b al quinto piano via mail mi possono segnalare il loro interesse ad incontrarmi e possiamo concordare dove come quando con molta facilità grazie mille professoressa Fabiano professore Mendicino il professore Migliori buon lavoro con gli studenti grazie mille a Rodolfo Maiocchi Katia Paese Amedeo Scarpelli e Vittorio Chiuterregia a voi per averci seguito ovviamente arrivederci Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille